Sono Luca Branciani, attualmente sindaco del Comune di Montelibretti, in carico di diversa dal 2016. Mi sono candidato per continuare questa bellissima esperienza ricca di soddisfazioni, di onori per quanto riguarda le nostre grandi iniziative, i nostri tanti impegni che abbiamo portato avanti con soddisfazione, ma anche un grande onero, un grande sacrificio personale, familiare, ma che vale la pena essere affrontato. Mi ricordo il lavoro di sindaco con la convinzione di aver assorto il mio ruolo con grande dedizione e con grande serietà, almeno mi si consenta di riconoscere io e il mio intero gruppo. Abbiamo rinforzato la squadra con inserimenti di grande qualità, di grande espessore umano e professionale. Ci impegneremo a fare le cose. La nostra campagna elettorale, come vogliamo ripetere, non sono promesse vane o impegni vaghi. È il lavoro che abbiamo svolto. Chiunque si trovasse a passare per la nostra cittadina di Montelibretti, in tutte le sue zone, anche le frazioni, anche le nostre stazioni metropolitane, le nostre frazioni di Passo Vorese, il Porto Santa Maria, Monte Maggiore, la zona militare, dovunque si percepisce un grande impegno, una grande dedizione. Quindi siamo convinti che in futuro, senza, ripeto, dare illusione alle persone, la nostra bregazione, il nostro lavoro, se la gente ci confermerà fiducia, continuerà con lo stesso tenore, con lo stesso impegno. Quindi chiunque vorrà sostenereci, lo ringrazio e auguro comunque a tutti un buon lavoro per la campagna elettorale. Grazie e viva Montelibretti.